Chi è il cavaliere del castello maledetto? Questo misterioso e invincibile guerriero che lotta contro gli usurpatori. Tutti lo cercano, tutti lo temono, nessuno sa chi sia. Abbiate fede! Ma hai il demonio in corpo! Sempre per colpa tua, Giannetto, ti cascasse la lingua. La contestina è tra i prigionieri. Portateli via! Vai a chiamare i fiammi. Ti piacerebbe una borsa piena di denaro? Prendi, è tua. Ora ti farò rimangiare la tua maledetta insolenza! Il cavaliere del castello maledetto. Un sorprendente film giallo in costume trecentesco. Sono donna. Mi è stato facile capire che Isabella ti piaceva. Perché non deve piacere lui? Contessina Isabella? Oh, Giannetto, che piacere rivederti. Ma come sei cambiato? Anche voi, Contessina. Lasciamo che si azzuffino tra di loro. Non è lontano il giorno in cui... ...prenderemo il loro posto. Non è lontano il giorno in cui... ... Grazie a tutti. Amori e intrighi, imboscate e duelli, cavalcate e battaglie si susseguono con un ritmo travolgente nel grandioso film Il Cavaliere del Castello Maledetto.